Da ieri sul sito della struttura del commissario per l'emergenza Covid Arcuri e su quello di Invitalia la procedura di gara di massima urgenza per l'approvvigionamento di lavori e servizi tecnici destinati alle strutture sanitarie. In tutto sono previsti 1044 interventi con un valore complessivo di oltre 713 milioni che saranno eseguiti in 457 ospedali diversi che fanno capo a 176 aziende del Servizio Sanitario Nazionale. La gara è stata bandita sulla base dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera presentati da tutte le regioni e approvati dal Ministero della Salute. Il termine per la presentazione delle offerte scade il 12 ottobre alle 14. I piani di riorganizzazione delle regioni prevedono i lavori di adeguamento e ristrutturazione delle aree destinate alle terapie intensive e semi-intensive nonché i lavori di separazione dei percorsi e di ristrutturazione dei reparti di pronto soccorso. La gara aperta indetta a livello nazionale è suddivisa in lotti geografici, ciascuno dei quali corrispondenti ad una regione e ad una provincia autonoma. Per ogni singolo lotto geografico e sub lotto prestazionale sarà stipulato un accordo quadro. Complessivamente saranno 84 accordi, ognuno sarà concluso con più operatori, a ciascuno dei quali saranno affidati gli appalti o gli incarichi relativi all'aslo o azienda ospedaliera presente nell'area territoriale ad essa abbinata. E all'esito di questa procedura, si legge nel bando, le aslo potranno ricorrere agli accordi quadro stipulati quali stazioni appaltanti.